Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Offre il prologo, 3 tipi di nemici, 14 tipi di armi, 14 moduli per auto, vari perk, 6 armi da auto, il crafting, più di 60 item, incontri casuali in mappa, una survival mode, un loot randomizzato e location generate proceduralmente. È un gioco che per quanto magari alcune recensioni lo diano un po' clunky nei movimenti, un po' legnoso, va secondo me lo dato perché comunque è un'idea originale e c'è dietro un progetto comunque secondo me fantasioso e pieno di comunque iniziativa da parte dello sviluppatore. Lo programmo insieme, lo programmo insieme per la prima volta, lo possiamo giocare in default mode o in survival mode, io sono masochista, lo approvo in survival mode. Cosa cambia? È che c'è la fame e la sede e per questo si può morire. Benvenuti al Training Simulation, sei stato scelto per il programma di insediamento Eranovum. La tua spedizione è postata insomma con esplorare diversi pianeti e stabilire una colonia umana nella regione. Devi fare impressione, con l'esperienza insomma va bene. Abbiamo una realtà aumentata avanzatissima che ci permette di simulare delle cose. Con WPASD ci si muove, è un po' lento il mouse devo dire, però vabbè ci si fa l'abitudine, soprattutto lui si muove. Ci muoviamo nella green zone. Ora proveremo a prendere l'arma usandola con il tasto C e prendendo i colpi ovviamente e sparando. Col tasto R ricarichiamo, tengo premuto, mi sposto qui e finalmente andiamo a sparare contro i nemici. Questo ricorda molto Hotline Miami come tipo di gioco. Si prende la granata, tab, apriamo l'inventario, lo equipaggiamo qui e possiamo vedere i nemici. E andiamo a usare, tenendo premuto e puntando, il tasto X. Molto bene. Vedete con questo. Uccidi i nemici. Ok. Ma sapete che a me divertono i giochi così comunque, cioè c'è poco da dire. Open. Bellissimo perché qua abbiamo il loot, quindi lo possiamo equipaggiare. Ah, vedete che cambia proprio l'aspetto del personaggio. Prendiamo altre munizioni e un medikit avanzato. Ora si va avanti. Sì, poi bisogna farci un po' l'abitudine con il metodo di risparo. Ok. Si staccano le mani, salta via le cose. Congratulazione, ho completato tutte le cose. Ok, prendiamo questa e ce ne andiamo. Live, yes. E ora si comincia. Si comincia la vera avventura. Riguardiniamo conoscenza. Che cosa è stata con l'esplosione? Caluta sul pianeta. E boom. Ok, siamo qui. Dai, seriamente, dove sono? E chi sta parlando qui? Ok. Vabbè, stiamo parlando con un tizio. Questi hanno ucciso tutta l'HU. Ok, stiamo parlando con un tizio. Ho detto, sto tizio qui ha ucciso tutti. Allora, adesso questo qui ci vuol fare la pelle, ma noi ci difendiamo. Ok. Tenere avvenuto alta, possiamo evidenziare gli oggetti. Ok, andiamo a prendere, cliccando con il destro, credo che li prendiamo tutti. Li possiamo vedere, divisi per sezione. Non ho preso armi, spero di trovarne. Collect. Prendo. Ah, ok, possiamo occupaggiarle direttamente. Possiamo mangiarle anche direttamente, volendo, per riempirci un pochino. Ok. Non c'è nient'altro da prendere, perché qua ci dice che è vuoto. Qua c'è la nostra navicella dell'esplorazione dei pianeti. Abbiamo ancora qualcosa lì. Prendo le berries. Vediamo se riesco a mangiarle subito. Vediamo. Water. Resto stamina. Yes. Posso aggiungerle anche alla hotbar. Però direi che... Ok, li metto lì, così premo il 2 e il 4 e mangiamo. Ok. Andiamo avanti. Un'altra voce. Guardiamo chi è. Ok. Questi sono bellissime verdure sull'albero. I cani sono un altro dei nemici che sono presenti nel gioco. Ci sono le torrette, i cani e i banditi. Vediamo se riesco... Non sto proprio benissimo. Il cane scappa. Bellina come cosa. Level up, press J. E quindi qua livelliamo. Sì, aumento la forza. Learn this perk. Ok, perfetto. Abbiamo aumentato la vita. Il cane torna indietro, ma noi lo uccidiamo. E mangiamo iusci. Ho mangiato la carne. Così ho fatto risalire un pochino là. Ok, questo scende. Vuol parlare con noi. Oh, grazie. Ho spacciato. Felice di aiutarti. Ascolta, la mia testa non è a posto. Che anno è? Che cosa è successo? Dove siamo ora? Ascolta, devi aiutarmi. Prima questi cani, i rider, li hanno mandati incontro a me. Hanno attaccato la nostra farm. Mi insolviene ancora lì. Andiamo. Va bene. Stop right now. Andiamo. Non c'è una mappa? Aspetta, aspetta, aspetta. Prendiamo un'arma. E prendiamo la roba che si può lutare. Perché si sa mai che il gioco, tra l'altro, ha un prezzo di 5,89€. Che è abbordabilissimo. Potete comprare un sacco di altre cavolate con 5€. Ma se vi piacciono i giochi di questo tipo, potrebbe essere un'ottima scelta. Poi si vede che è un indie puro, eh. Cioè, senza ombra di dubbio. Allora. Avanti, dolcezza. Sii una brava ragazza. Lascia che i ragazzi entrino. Non ti faremo nulla, te lo prometto. Già le zucche ascoltano. Sono stato paziente. Ok, la chiamano zucca vuota, insomma, non so. Ma se non apri la porta, ora entrerò all'interno e manderò ai miei cani, insomma, va bene. Andiamo a farli fuori. Brunilde. Voglio equipaggiare l'arma. Hey, you scam! Ma... Ma... Che cacchio succede? Aspetta, 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 un momento, un momento. Ho armi? Sì. È andato a curarsi qui. Ah, lui ci ha distratto i tizi Brunida è una vichinga Praticamente Sì Siamo sull'altro pianeta Dannati Ok Sono tornati, salvami mio cavaliere Ok, sono tornati Ok Non so quanti colpi abbiano Ma tanto carico Mi rifugio in bagno Ok Oddio, non è un capolavoro Però, cioè, è carino È simpatico, è divertente Insomma, poi si guiderà anche l'auto Si equipaggeranno le auto Si andrà in giro Un po' la Mad Max Un Mad Max con vista dall'alto Va bene Qua vabbè c'è sui dialoghi Il gioco non è in italiano Come avete ben visto Ah, posso scegliere anche la frase da dire Io sto andando un po' a cavo A cavolo Ok, lei cosa vuole? Ci hai salvato Ci dà un copper coin Gli ho chiesto la ricompensa Dove posso trovare? Ok Ci sta spiegando anche che abbiamo La possibilità di craftare oggetti Allora, in effetti sì Come dicono le recensioni È un po' clunky Nel senso che Non lo so Bisognerebbe Prenderci l'abitudine Secondo me è solo questione l'abitudine Con la workbench Si può andare a creare queste cose Mi urta un po' queste icone Mega galattiche Immense Che Però Vedete che Si può craftare Il mondo Tra queste cose Non credo Al momento Si possano fare strutture Però I giochi con una grafica così semplice Spesso si prestano ad ottimi aggiornamenti E quindi potrebbe cambiare tanto Tantissimo Questo Questo gioco nel corso degli anni Allora Degli anni Dei mesi Perché ha promesso di farlo uscire L'anno prossimo Quindi nel corso dell'anno Però I contenuti Ce ne sono già Allora Apriamo la valigia Io prendo tutto Clico destro Non si sa che Munizioni usino Usino Usano Armi Revolver E pistola 9 o 21 Io voglio equipaggiare Della pistola Pistola Ok Posso mettere Pistola In due mani Davvero? No La posso equipaggiare Solo Ah Uno e due Ah Shift tra una e l'altra Perfetto Allora facciamo così Metto questa Così prendo la pistola 2 Silenziata Sì Sembrerebbe Allora Vediamo cosa c'è qua dentro Open E Prendo questo E vediamo Questo è Sono erbe varie Open Ok Posso craftare qualcosa Qui al banco? Sì Posso craftare Schaff Menta Tè E medicine Crafto le medicine E anche sal Petra Che non so cosa sia Ma Crafto Bene Come sopravvivete qui? Va bene E dove posso prendere? Ok Una migliore Va bene Posso prendere la vostra auto Se vi sparo No Non succede niente Giustamente Ma se prendessi l'auto Qua c'è trunk Nel baule C'è medikit E benzina L'auto però Non posso prenderla Qua c'è il motore Ma pensate un po' Ispiratissimo A Mad Max Con Tutte le componenti Che si possono mettere All'interno C'è addirittura Un bench Trunk Una workbench Nel baule In modo da poter Craftare in giro Un condensatore D'acqua Che ci permette Di guidare Condensare acqua E una tank Una tannica esterna Per ridurre il consumo Di carburante Insomma Ne abbiamo di più E Qua abbiamo Fill the bottle Ah non c'è la bottiglia E' richissimo Come gioco Stiamo raccogliendo Di tutto Perché Ho anche una certa famina Quindi mi mangio Questo Sul 4 Ho finto i biscotti Peccato Mi resta Mi rilascia lì Anche se non ne ho più Fill water Vediamo un po' Se metto 4 Bevo l'acqua No Ok Ho bevuto Mangio E riempio la bottiglia No no Non voglio sparare Però se uso 3 Se uso Continuo a sbagliare Ok riempio Ah ok Vabbè Non so cosa stia facendo Ma comunque Non si può andare oltre Live Yes Quindi è fatto a micro aree Interessante Perché poi ci dovrebbe essere Anche una mappa Infatti Dove noi andiamo ad esplorare Altre zone Andiamo alla town Qua ci sono gli eventi Qualcosa Si vede alla distanza Ma La Tempesta di sabbia inconveniente Nasconde Tutti i dettagli utili Potrebbe essere qualcosa Là fuori Hai bisogno di saperlo Sì E quindi ci fermiamo A vedere che cosa succede Andando verso questa città E qua Abbiamo i cani Smithers Libera i cani Mannaggia Ho livellato E muoio Malissimo Nonostante io Continuo Per ricaricare Il nostro precedente Save Quindi abbiamo scoperto Anche cosa succede Con la morte L'unica cosa C'è un po' di Ci sono un po' di caricamenti Se io Ok Questa sembra Molto più potente Ok Ho finito i colpi Questo usa due pistole Perché usa due pistole Andiamocene Sarebbe stato bello Fregargli Quel fucile lì Ma intanto scappiamo E andiamo verso City The big city Travel to town Bella 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 Carino Come gioco Molto carino Devo ammettere Ok Sembra la location Di prima Ci sono auto Che non si possono guidare Ma possiamo Prendergli le armi Che ci sono all'interno Diamo un'occhiata Al motore Se ci sono dei moduli Per auto Ma non c'è nulla Perché poi Mi pareva Si potessero guidare Comunque Con questo si può parlare Perché si allarma subito E muoio subito Mi hanno staccato la testa Vabbè Esca Continua E si riparte Direi Da dove Abbiamo lasciato Prima di morire Non è male Per 5 euro Li vale Allora Vediamo un attimo Mi do una curata Aggiungendomelo lì E' un po' scomodo Questa cosa Dei Ok Dei Dei tasti sotto Perché non si capisce Che 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 Però La città La grossa però Io sparo Ok Ok J Aumento la forza La vita Qua è vuoto Collect Finto il munizio No No Finto le munizioni Suregun Non ho altre amie Mierda Ho finto le munizioni Devo girare silenziosamente Cercando roba da ruotare Sperando di trovare munizioni Ok Scappo Posso fuggire Perfetto Posso fuggire Non sono messo benissimo Con La fame e la sete Sono Un Interessante esperiente Di sopravvivenza Siamo viaggiati a caso Si può viaggiare così Abbiamo qua Il carburante Quindi In auto Non si guida Di persona Anche se Sicuro si potesse fare Comunque Vediamo verso l'autostrada In realtà Bisognerebbe andare Il cottage O il distributore E trovare Appunto del carburante Da fare Molto simpatico Devo dire Non me l'aspettavo Si Ha i suoi difetti Ma l'ha preso come un indie Quindi Ah qua guidiamo l'auto Ok Ok Infatti E si spara E abbiamo il numero di munizioni Carino Sponche scendere Si Posso scendere Ma ho finito I colpi Ora Ah solo sull'autostrada Si usa il mezzo Vabbè Abbiamo preso munizioni Vediamo se c'è qualcosa da Ah questa è la mia auto Quindi Dietro Ho qualcosina Qua si luta Vediamo se c'è qualcosa da luttare No Poi salgo Saliamo a bordo In autostrada La granata Finito i colpi La molotov Vediamo se si può investire Si Diventa un Carmageddon In esometria Uh le toilette Praticamente abbiamo visto Praticamente tutti i nemici Ormai Ok Siamo morti È davvero molto interessante Comunque come titolo È da tenere assolutamente d'occhio Questo Iron World 5,89 Non so dirvi Però potrei vedere Sì Penso che sia Mi sono informato Dovrebbe aumentare comunque il prezzo Salendo Diciamo Andando avanti con lo sviluppo Penso che questo potrebbe essere Se sviluppato bene Se portato avanti con contenuti E tutto Un gioco Anche da 15-20 euro Quindi Fatemi sapere che cosa ne pensate Se siete amanti dei giochi Non guardate la grafica Non guardate magari un po' la legnosità Che non è neanche legnosa Questione di Abitudine E siete amanti di Quella Ambientazione Un po' la Mad Max Il gioco potrebbe Assolutissimamente Fare Per voi Ora Io non ho più colpi Quindi No Devo salire E poi è caudissima Sta cosa Da investire la gente Ma va bene E qua si recuperano Altre munizioni Niente ragazzi Questo era Iron World Per voi Fatemi sapere che cosa ne pensate Qua sotto nei commenti Come al solito E noi ci sentiamo In un prossimo video gameplay Alla prossima ragazzi E ciao ciao